Vice Presidente Minardi, perché è importante mantenere vivo il legame con le associazioni dei marchigiani all'estero? È importante perché soprattutto sono una parte della nostra comunità marchigiana, non vivono nelle Marche ma sono i nostri ambasciatori, potremmo dire che sono il nostro Ministero degli Esteri, le nostre ambasciate distribuite nel mondo. La comunità marchigiana è una comunità importante all'estero e vogliamo far sì che questo rapporto rimanga continuamente vivo perché le radici di solito non debbono essere mai abbandonate e quindi soprattutto per i giovani che portino nel loro cuore l'esperienza che hanno vissuto nelle Marche ma che possano portare anche ai loro genitori, nonni, bisnonni, l'esperienza e la storia che hanno vissuto in questi giorni nella nostra regione. Ovviamente questi rapporti sono importanti dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista economico perché far circolare il nome delle Marche nel mondo è importante anche per promuovere la nostra regione ma soprattutto perché non dobbiamo mai dimenticare le nostre radici, la nostra storia perché queste sono persone che hanno abbandonato ogni cosa, hanno abbandonato la casa, la famiglia, la storia, gli amici, gli affetti per andare a cercare un futuro migliore. Molti di loro lo hanno trovato, alcuni sono rientrati, molti di loro sono rimasti all'estero e proprio per questo, per questa speranza che hanno cercato di trovare un mondo migliore, il loro legame con le origini, con la nostra regione deve rimanere così forte come da parte nostra deve esserci questo atteggiamento di apertura continua nei loro confronti. Come ho concluso nel mio intervento in consiglio regionale, per i marchigiani all'estero le porte aperte della regione sono sempre aperte.